Vecchi e nuovi di Atena, alle autorità presenti, siamo anche in attesa del ministro che dovrebbe essere qui a momenti e lo saluteremo e lo accoglieremo con grande affetto nel momento in cui sarà con noi, visto che ha avuto anche tra l'altro un ruolo importante in una delle azioni che Atena ha compiuto quest'anno. Allora festeggiamo ancora una volta il lavoro di Atena, una fondazione che parla di neuroscienze, che parla di cervello, che ogni anno in questo incontro, che è un incontro con il pubblico ma è un incontro anche con gli scienziati, ci dà l'occasione di fare un po' quasi il punto su un argomento importante che diventa l'argomento di discussione del convegno dell'anno e di premiare e quindi di indicare anche all'attenzione del pubblico anche dei personaggi tra quelli che hanno una lunga carriera alle loro spalle, quelli in attività da poco tempo nel campo della ricerca, le giovani promesse, ma tutti quanti personaggi che hanno qualcosa da dire di molto importante nel campo delle neuroscienze, in questo mondo affascinante che riguarda il cervello. Ringraziamo come sempre anche quest'anno gli sponsor che hanno permesso, che permettono con il loro costante appoggio, la loro solidarietà e il loro entusiasmo questo evento e la vita di Atena e che sono Sorgente Group che è il main sponsor, Eletta e Omicron. Annunciamo anche subito allora il tema di questo pomeriggio e di questa sera che è il cervello dopo la mezzanotte, cioè il sonno e i sogni. Un argomento quanto mai interessante perché pensate solo nella nostra vita dormire che importanza centrale abbia per la nostra salute, per il nostro benessere, quanto sia importante dormire e quanto sia grave il non dormire, quindi tutti i disturbi del sonno. E poi io sono anche molto incuriosita della parte che riguarda il sogno perché il sogno è quella parte per noi, come dire, irrazionale. C'è gente che giura di avere premonizioni attraverso i propri sogni su visite da persone che magari non sono più presenti nella loro vita. Insomma, è un mondo molto interessante al confine tra la razionalità e l'irrazionalità, ma anche nella nostra storia, ma anche nella letteratura. Il sogno è sempre stato il momento in cui il protagonista riceveva poi forse un'illuminazione, ma questo a cominciare dalla Bibbia, pensate dall'importanza storica e anche religiosa del sogno. Quindi argomento importantissimo e io vorrei subito avere con me qui sul palco del palco, in questo auditorium del Maxi, ringrazio anche il presidente Melandri che ci ha ospitato e quest'anno vorrei avere Giulio Maira, che è il presidente di Atena, è il motore insieme a Carla Vittoria Maira, non solo di Atena Onlus, ma anche della sorella, diciamo, di Atena, che è Atena Donna. Insomma, un insieme di attività che veramente stanno lasciando il segno e questa è una cosa importante. Allora, io vorrei, possiamo avere un microfono per, eccolo, prendiamo uno di questi. Vorrei intanto parlare subito dell'attività di Atena, perché Atena quest'anno farà qualche cosa di, è acceso quello del professore? Sì, dimmi quello di sì, mi dicono che è acceso, è acceso. Atena quest'anno farà qualcosa di veramente importantissimo, cioè parte una ricerca nuova, grazie proprio ad Atena Onlus. Diciamo che da settembre comincia una ricerca, sentite? Sì, benissimo, la sensazione è che non funzionasse. Comincia un progetto di ricerca nuovo con l'Istituto Superiore di Sanità, è un progetto di ricerca che riguarda i tumori cerebrali, e i tumori cerebrali sono un po' al centro dell'attenzione di Atena, perché purtroppo la gente muore di tumore, tanti tumori non sono curabili, e il segnale di questo è dato proprio dalla giornata di oggi. Oggi premeremo due personalità, che sono il professor Finocchiaro e il professor Dufo, i quali sono tra i ricercatori più importanti proprio nel campo dei tumori cerebrali. È un segnale che vogliamo dare sull'importanza di lottare contro i tumori, perché il nostro futuro si allunga la vita media, aumentano i mezzi diagnostici, aumenta l'inquinamento purtroppo, viviamo in un mondo inquinato, aumentano i fattori che causano i tumori, molti non li conosciamo, però i tumori vengono e dobbiamo essere in grado di curarli. Allora, la ricerca da un canto, le applicazioni che loro sono già riusciti a dare, portando avanti le nostre capacità di terapia, tutto questo deve permetterci di arrivare in un mondo in cui non si muoia più di cancro, non si muoia più di tumore cerebrale. E quindi questo è uno dei motivi dell'esistenza di questa fondazione, proprio per promuovere la ricerca scientifica e editare delle possibili strade nuove. E quindi io per questo vorrei ringraziare tutti quelli che fanno parte del comitato promotore, del comitato d'onore, del comitato scientifico, perché tutti insieme si cerca di essere vicino a voi, che siete poi quelli che ci devono dare le risposte. Assolutamente, grazie anche a chi fa donazioni per Atena. Il 5x1000 è uno strumento fondamentale, abbiamo molti soldi che vengono per il 5x1000 e tante persone che sono qui hanno donato per il 5x1000. E quindi io li ringrazio tutti, non potendo li ringraziare singolarmente. Ma le manifestazioni di attaccamento ad Atena e di fiducia in quello che fa Atena sono tantissime e di questo ringrazio veramente tutti. Allora, parliamo un po' di quello che è successo quest'anno, anche per rendere conto proprio agli amici che supportano sia Atena che Atena Donna. Quest'anno sono successe una serie di cose interessanti, perché tutte e due le fondazioni sono molto attive proprio nell'opera di divulgare, quindi di sensibilizzare e quindi in qualche modo di avvicinare il pubblico a degli argomenti che possono sembrare troppo complicati, troppo scientifici, ma che poi invece ci riguardano da vicino. Allora, intanto c'è stato a settembre dell'anno scorso, il 15 settembre per la precisione, all'Expo di Milano c'è stato al Padiglione Italia un premio dedicato proprio ad Atena Donna, proprio perché è stato premiato il lavoro di divulgazione che Atena Donna ha fatto da quando esiste ad oggi, parlando a tutte le donne delle periferie. Allora, ci sono tanti argomenti che ci riguardano da vicino, dobbiamo essere informate, essere informate non sempre è facile quando non si hanno gli strumenti. Atena Donna fa questo, ha creato dei momenti di incontro con donne che, diciamo, di primo acchitto probabilmente non leggono le riviste scientifiche o non sono attente a quello che dicono le televisioni e ha portato presso un pubblico meno attento delle problematiche che noi invece dobbiamo tutti prendere in considerazione, su cui dobbiamo essere molto preparati. Atena Donna non si occupa solo di neuroscienze, parliamo in genere di tutte le malattie che possono colpire le donne, quindi questo è molto importante. Con Atena Donna si è allargato un po' il campo di interesse di Atena. E infatti, infatti, proprio per adesso collegarmi con quello che il professore sta dicendo, Atena Donna ha ottenuto poi anche un grandissimo successo quest'anno con l'istituzione che è stata chiesta al Ministero della Salute, che il Ministro Lorenzin ha accolto con entusiasmo ed è per questo appunto che è parte di questa vicenda e anche della vicenda di oggi, l'istituzione della giornata nazionale della salute della donna che è stata celebrata quest'anno per la prima volta nel giorno del centenario della nascita di Rita Levin Montalcini e quindi il 21 e 22 di aprile Atena Donna ha avuto la soddisfazione di vedere realizzato un momento che è importante perché oggi si parla anche di medicina di genere, giusto? Assolutamente, per questo devo ringraziare Carla Vittoria e il comitato Atena Donna che è costituito da tante persone che sono qui, adesso non le citiamo tutte, ma che hanno contribuito ad avere questa idea e a portarla avanti, a portarla avanti cercando di spiegare l'importanza della medicina di genere, cercando di spiegare come l'attenzione alle malattie delle donne deve essere aumentata perché uomo e donna sono diversi, noi siamo diversi, rispondiamo in modo diverso alle malattie, rispondiamo in modo diverso alle terapie e finora non c'è un'attenzione così precisa su questo aspetto. Allora l'istituzione della giornata della donna serve proprio a sensibilizzare su questo problema, su questa differenza. Ed è stato poi, diciamo, sancito ancora questo momento di celebrazione della giornata della salute della donna con la creazione di un francobollo che è stato disegnato proprio da Carla Vittoria Maira e per il quale dobbiamo ringraziare Luisa Todini che è appunto presidente di Poste Italiane ed è membro anche del Comitato d'Onore di Atena Donna, che appunto ha emesso, le Poste Italiane hanno emesso questo francobollo che poi è diventato l'invito della giornata di oggi, no? Esattamente e abbiamo anche appunto la vicinanza e la simpatia e la collaborazione fattiva ecco di una donna manager come Luisa Todini, oggi lei non c'è perché a San Pietroburgo per un incontro, un convegno insomma un incontro istituzionale, però sicuramente è una donna sensibile e vicina alle problematiche che appunto stiamo illustrando e sostenendo attraverso le due fondazioni. Poi per dirne ancora un'altra, c'è stata ancora una campagna che si è intitolata Io amo la vita, alcol e droga, non ti giocare il cervello. Questa è una cosa di cui sono molto contento e molto fiero perché assieme alla Regione Lazio abbiamo fatto un DVD che si chiama proprio Io amo la vita, che abbiamo mandato a tutte le scuole del Lazio in cui spieghiamo che cosa succede drogandosi, abusando di alcol e con la speranza che anche un solo ragazzo in ogni scuola capisca che eccedere con l'alcol, andare in discoteca e prendere una pasticca che non si sa che cosa sia, che poi gli fa male il cervello quindi capisca che questo va evitato e spero che sia più di un ragazzo che lo capisca. È una campagna molto importante, è una campagna per i nostri figli. Purtroppo l'abuso di droga e di alcol è un'epidemia culturale, non la curiamo con gli antibiotici, la curiamo con la cultura e quello che cerchiamo di fare è proprio di portare conoscenza ai ragazzi perché sappiano che succede e forse sapendolo sono un po' più prudenti e sanno che non è un gioco semplicemente. E infatti l'informazione è il primo passo verso la consapevolezza e quindi verso forse un cambiamento anche di stile di vita. Come dice il professore, non è facile con i ragazzi perché è un fatto sociale ormai diffuso, molto diffuso e molto importante come fenomeno ma insomma bisogna pure cominciare da qualche parte e quindi è una grande azione. Altra iniziativa che poi è quella di oggi e che ci ricongiunge poi con i nostri padroni di casa, con il Maxi è quella del Dream Over, diciamo una notte al museo. C'è un'iniziativa interessantissima di cui poi Livia Zariti parlerà insieme con i suoi professori durante la tavola rotonda che adesso va a seguire che sarà proprio un esperimento particolarissimo. Alcune persone dormiranno qui al museo davanti a delle opere d'arte e si vedrà qual è l'effetto sul sonno, sui sogni, sulle memorie del giorno dopo che la contaminazione positiva con un'opera d'arte può dare ad un essere umano. Insomma, quale sarà l'effetto? Assolutamente. Diciamo che l'idea di bellezza è connaturata nel nostro cervello. Se noi vediamo un film dell'orrore e abbiamo un incubo la notte e se dormiamo davanti a qualcosa di bello probabilmente dovremmo sognare meglio. E quindi è banale quello che ho detto però alla fine l'esperienza ci influenza e influenza anche i nostri sogni. Ne parlerà poi Livia con il professor Ferini Strambi e con il professor Ferini e Cristina Alberini. L'ultima cosa che vorrei ricordare è il libro che ha scritto il professor Maira perché è un libro che mi ha commosso, perché è la storia di una vita dedicata ad un sogno, ad una grande passione che è diventata poi appunto la motivazione di tutta un'esistenza spesa a concretizzare questo sogno al servizio di chi ne ha bisogno, dei malati. E questo libro, Ti regalo le stelle, è stato un successo editoriale che però ha portato anche qualcosa di buono nelle casse. Se ne parla in questo consuntivo di attività di Atena è questo, che gli utili del libro vanno alla fondazione. E diciamo che in sette mesi la fondazione Atena ha avuto 20.000 euro di utili dalla vendita del libro, che mi pare che sia un risultato straordinario. E' utilissimo, no? E' una cosa molto bella, perché poi tutto va fatto, tutto serve per la ricerca, sono delle piccole cose che si aggiungono. Avere anche questo è qualcosa in più che serve a dare borse di studio, serve a progettare ricerche per il futuro. Allora, a questo punto ringraziando veramente, e vorrei che lo facessimo tutti insieme con un applauso, l'opera incessante del professor Maira, ma anche di Carla Vittoria Maira, che si sono spesi in tutto quest'anno come sempre per le due fondazioni. Allora, vi prego, dedichiamo a loro due un applauso per il lavoro incessante. E adesso vorrei che Lidia mi raggiungesse, perché adesso è il momento invece della scienza. Adesso, dopo aver fatto il resoconto di tutto quello che è accaduto, io mi defilo, scompaio e vi lascio la parola. Allora, funziona questo microfono? Mi pare di sì, abbiamo avuto il problema del microfono quando cominciamo. Allora, avete sentito da mille l'argomento di questo convegno di quest'anno? Credo che sia uno, so, complimenti a chi l'ha scelto, perché è un argomento di grande fascino, di grande interesse, sonno e sogni, il nostro cervello dopo mezzanotte, veramente, qui c'è il mistero, c'è il fascino, e allora adesso chiameremo i nostri relatori. Allora, professor Giulio Maira, perché si è andato a sedere? Lei si deve sedere qui in mezzo a noi. Poi, il professor Luigi Ferini Strambi, professore ordinario di neurologia, accomodatevi. E il professore Pietro Bria, psichiatra e psicanalista, naturalmente, perché quando si parla di sogni, bisognerà anche parlare di psicanalisi. Il professor Claudio Strinati non è potuto essere presente, però ci ha mandato un video in cui lui parla invece del sogno nell'arte. Quello lo vedremo dopo. Allora, caro professor Maira, veramente un argomento, credo, di grandissimo fascino. Il cervello dopo mezzanotte, perché il cervello continua a lavorare anche dopo, quando noi dormiamo, quando pensiamo che tutto tace. Allora, ci introduca a questo tema affascinante. Funziona anche questo, faccio una breve introduzione, poi lascio la parola agli esperti. Agli esperti, al neurologo, allo psichiatra, allo psicanalista. Chi non conosce poco di neurologia o di neuroscienze, se mi date le voce. E infatti cambiamo. Cambiamo, eccolo. Questo funziona meglio. Perfetto. Allora, una breve introduzione per chi non è neurologo, e poi sentiremo chi spiegherà meglio di me dopo. Se posso avere le mie diapositive. Allora, diciamo che il sonno, come i sogni, è uno degli aspetti più misteriosi, più intriganti della nostra vita, uno degli aspetti delle neuroscienze. Sono stati dati da tante interpretazioni. Secondo Freud erano espressioni di desideri inconsci. Secondo altri, invece, i sogni e il sogno sono una chiave importante per capire i meccanismi della nostra coscienza. C'è un... Sì, eccolo di quello. Diciamo che il dato di fatto è che ogni uomo passa un terzo della propria vita dormendo e il sogno costituisce un elemento fondamentale del suo ciclo del sonno. Nel corso di una vita media, almeno sei anni, li passiamo sognando. Cioè, se uno riflette su questo, ci si rende conto di quanto ci sia una seconda vita, in realtà, che noi ignoriamo, ma che è importante. E deve essere importante, perché se no non si giustificherebbe tutto questo. Molti artisti si sono ispirati al sonno e ai sogni. Vedete questo bellissimo quadro di Van Gogh, il Calderone della Barca, diceva che la vita è un sogno e anche Shakespeare nella tempesta fa dire siamo anche noi fatti della sostanza di cui sono fatti i sogni e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Però malgrado questo, noi i sogni ce li dimentichiamo, non ricordiamo nulla. E questo, come dice Giulio Tononi, in un libro bellissimo che vi consiglio di leggere, Un viaggio dal cervello all'anima, dice quante esperienze vanno irrimediabilmente perdute ogni volta che non riusciamo a rievocare un sogno, quante vite abbiamo vissuto che non possiamo ricordare. Ma allora, se non ricordiamo nulla, se il sonno passa e noi non abbiamo cognizione di questa nostra seconda vita, perché il nostro cervello ha il bisogno ogni giorno di attivare un programma che ci fa dormire? E il sonno è un pezzo della nostra vita sprecato oppure risponde ad una funzione vitale? Direi che il sonno è fondamentale per la nostra vita. Tutti gli animali sognano. Si avviso sperimentalmente che se noi depriviamo di sonno delle persone si perde la capacità di elaborare i ricordi, il cervello non funziona bene, se togliamo il sonno a degli animali sperimentali muoiono prima ancora di quanto morirebbero se togliessimo il cibo. Quindi il sonno è un elemento fondamentale. Quello che la scienza ci dice oggi è che il nostro cervello non si ferma quando sogna, non è un riposo. Il cervello lavora, il cervello cambia il modo di lavorare e mentre sogna l'attività cerebrale rimane praticamente quasi simile a quella che c'è durante la veglia. Allora, perché sogniamo? Quali sono i meccanismi? Che cosa succede nel nostro cervello? Cerchiamo di capirlo. Cosa succede al cervello quando ci addormentiamo? Intanto la modalità di indagare il nostro cervello durante il sonno è molto semplice. Noi facciamo un elettroencefalogramma. L'elettroencefalogramma è la registrazione di una grossa attività cerebrale, dell'attività elettrica dei neuroni dall'esterno, dallo scalpo. E vediamo che quando dormiamo l'attività cerebrale si modifica. Durante la veglia noi abbiamo un'attività, poi ce lo spiegheranno meglio e daranno degli esempi, però rapidamente. Durante la veglia noi abbiamo un'attività che è un'attività rapida, di basso voltaggio. È come vedere un mare increspato da piccole onde. Poi improvvisamente ci addormentiamo. Quando ci addormentiamo i neuroni si sincronizzano fra di loro e l'attività cerebrale cambia. È come se il mare diventasse fatto di ampie onde con alti picchi e grandi avvallamenti. Se noi potessimo registrare, sentire quello che c'è nel nostro cervello, se noi potessimo sentire la musica dei nostri neuroni, noi vedremo che durante la veglia sarebbe come entrare in una sala di concerto mentre gli orchestrali stanno provando. Ognuno suona per conto proprio, ha una logica quello che ognuno fa, ma da noi, guardandolo dall'esterno, sembra un caos, sembra un disordine totale. Poi arriva il direttore d'orchestra e il direttore d'orchestra immediatamente ferma tutti, tutto si sincronizza e i neuroni cominciano a funzionare in modo sincrono fra di loro. Ma che succede? Perché succede tutto questo? Perché dall'attività di veglia rapida di basso voltaggio arriviamo a questo sonno profondo? Perché il cervello lavora in questa fase e durante la fase di sonno profondo la nostra mente svolge un'attività di riordino delle esperienze recenti, di quello che ci è successo il giorno prima. Cioè noi siamo esposti durante la nostra veglia a stimoli che ci arrivano dappertutto, ma il nostro cervello inattività non riesce a razionalizzare, non riesce a sedimentare, non riesce a scegliere ciò che è buono da ciò che è cattivo e tutto questo lo fa durante la notte. Quindi le cose di poco conto vengono rimosse, le informazioni importanti entrano nella memoria a lungo termine e si fissano gradualmente. Questo nel sonno profondo. Ma il sonno profondo dura un certo periodo di tempo, poi cambia, poi improvvisamente si ritorna e questa attività di riordino del cervello lo abbiamo visto in questo bellissimo cartone che è inside out. Improvvisamente cambia tutto nuovamente. Il cervello riprende un'attività rapida, si ritorna quasi nell'attività di veglia, però siamo sempre addormentati, si muovono soltanto gli occhi. Quindi questa è una fase che chiamiamo fase REM, la fase in cui si fanno la maggior parte dei sogni. E in fase REM che cosa succede? Perché c'è questa fase REM? Perché a questo punto il cervello che ha in qualche modo catalogato le esperienze importanti dei giorni precedenti confronta queste esperienze con le esperienze del passato. Quindi integra i fatti recenti con le conoscenze già fissate e quindi modifica la nostra esperienza, modifica la nostra memoria. Modificando la nostra memoria modifica la nostra personalità. Noi siamo quello che ricordiamo, noi siamo quello che la nostra storia ci ha lasciato nella nostra mente. E in questo modo modifica anche la nostra cultura perché i ricordi sono anche la cultura. Quindi come vedete l'importanza di sognare e di sognare bene, l'importanza del sonno e del sogno per quello che noi siamo, per la nostra personalità, per la nostra mente. Ogni notte quando spegniamo la luce quindi la nostra mente ci conduce attraverso le esperienze fantastiche e ci porta in uno straordinario viaggio. Questo viaggio nella memoria però è molto importante perché da questo viaggio dipende dare un senso ai nostri ricordi. quindi sono esperienze che ci servono per gestire il nostro futuro. Durante la notte succede un altro fatto ancora importante. Cioè il cervello durante la notte impara. Cioè tutto quello che noi facciamo, tutto quello che ci capita è un qualcosa che viene fissato nel nostro cervello. E una delle caratteristiche peculiari del nostro cervello è questa grande capacità di imparare. Quando noi ci svegliamo la notte abbiamo un cervello diverso da com'era quando ci siamo addormentati. Alcune reti neurali si sono modificate. Quando noi usciremo da qui stasera avremo un cervello con delle reti neurali diverse da quelle di stamattina. E questo imparare è il senso della nostra vita. Il cervello imparando stimola anche la nostra creatività. Questo è un elemento estremamente importante. Molti artisti, molti scienziati hanno confessato che sognando, dormendo hanno avuto delle idee brillanti. ognuno di noi ha l'esperienza di svegliarsi nel sonno addormentarsi con un problema con qualcosa di complicato nella mente e al mattino trovare la soluzione trovare che tutto si è semplificato proprio perché questo meccanismo di riordino che c'è nel cervello facilita la razionalizzazione delle cose e sviluppa la creatività. Vladimir Horowitz il grande pianista diceva che lui suonava e si esercitava nel sonno. Paul McCartney ha confessato che un mattino svegliandosi ha sentito nelle orecchie la melodia di Yesterday pensava che fosse una musica conosciuta ha fatto delle ricerche incredibili per capire chi l'avesse scritta alla fine si è reso conto che nessuno l'aveva scritta e ne ha fatto uno dei pezzi pop più importanti della musica leggera. Però il sonno non lo ricordiamo sempre qualche volta il sogno tutto quello che succede nella nostra mente scompare ma scompare perché è strano è come se il cervello se questa seconda vita fosse semplicemente di preparazione a qualcos'altro noi non la dovessimo vivere coscientemente. Qualche volta ci capita però nel dormiveglio del mattino quando entrano i primi rumori del mondo nella nostra stanza ma ancora abbiamo un residuo di sogni di capire quanto è importante questo sogno e quanto perdiamo quando non riusciamo per il fatto di non riuscire a ricordare i sogni e Stefan Klein che ha scritto un bellissimo libro i sogni i viaggi nella nostra realtà interiore rende questo in questo modo bellissimo rammenti solo qualche frammento di sogni ma percepisci che nei tuoi sogni deve esserci stato molto di più come se fossi penetrato di notte in un continente sconosciuto del quale di giorno riesci a percepire solo una striscia di costa questo continente è la tua psiche questo ci dice quanto perdiamo non sognando non ricordando i nostri sogni forse un giorno riusciremo a ricordarlo ci sono dei laboratori nel mondo in Giappone in America dove registrano le attività dei neuroni durante il sonno dove sono anche riusciti a ricostruire i sogni delle persone e addirittura sui ratti trasferire un sogno da un rato all'altro quindi forse il nostro futuro sarà quello di non perdere i nostri sogni e che i sogni siano importanti ce lo dice anche Snoopy il quale sarebbe rimasto ancora sognare se ne avesse avuto la possibilità perché sognare fa bene come vedremo sognare è importante per il nostro cervello poi c'è tutta la parte della malattia del non poter sognare ci sono molte spiegazioni scientifiche sul perché noi non riusciamo a sognare ma queste le vedremo dopo vi do una spiegazione non scientifica dice una leggenda che se non riesce a dormire la notte è perché sei sveglio nel sogno di qualcun altro grazie bello è evidente che questo argomento si presta veramente a tantissimo alla poesia come ci ha fatto sentire il professor Mayer all'arte al sogno all'irrazionale al bello veramente a tutto allora sentiamo adesso il punto di vista del neurologo sul sonno e sui sogni il professore già ci ha detto della relazione importante che c'è tra sonno sogni e memoria cioè il sonno serve anche per rimettere a posto la nostra memoria per risistemare quello che abbiamo vissuto i nostri ricordi beh sì assolutamente sì il sonno è una delle cose più importanti per il nostro processo di memoria quello che noi durante la giornata apprendiamo durante la notte lo dobbiamo collocare nel nostro deposito nel nostro magazzino ero interessato a quello che prima stava dicendo il professor Maio perché è vero stavo pensando al discorso delle canzoni che vengono rielaborate vengono addirittura inventate di note pensate che quando noi parliamo di memoria e poi qui nel pubblico c'è anche qualcuno che se ne intende molto di memoria noi possiamo distinguere essenzialmente tre tipi di memoria abbiamo la memoria quella della poesia la memoria della donzelletta viene dalla campagna la memoria di quello che abbiamo fatto ieri la memoria di quello che abbiamo mangiato oggi a colazione ecco questa è la memoria quella che noi chiamiamo esplicita la memoria chiara la memoria ecco allora pensate che questa memorizzazione di queste informazioni vengono appunto questo processo viene fatto durante quel sonno profondo che prima appunto di cui prima ci parla il professor Maio proprio quel sonno ad onde lente ma adesso poi ve lo farò vedere mentre ad esempio la memoria relativa al fatto di saper fare le cose cioè voi pensate un attimo al fatto di saper muovere ad esempio le mani su una tastiera senza magari neanche vedere dove sono i tasti perché noi li abbiamo memorizzati allora questa oppure la memoria di saper andare in bicicletta questa è la memoria del saper fare le cose non è la memoria del vissuto di quello che è questa infatti viene chiamata memoria implicita cioè quindi non è una memoria legata appunto a dei ricordi di vita ma è una memoria del saper fare per questo tipo di memoria è molto importante il sonno REM che è il sonno in cui si sogna ma questo stesso sonno REM è importante per il terzo tipo di memoria quella che è la cosiddetta memoria emozionale la memoria che ci fa in qualche maniera vivere le emozioni e collegarle a qualche fatto importante della nostra vita ad esempio ecco anche queste cose le facciamo essenzialmente durante il sonno REM e allora poi magari adesso velocemente vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando e capirete magari spero perché il professor Maela ci ha affascinato con tutte le citazioni io adesso devo invece affascinarvi un po' di meno perché devo parlarvi un po' di come funziona il cervello ma è molto molto semplicemente allora quando questo vedete questo è un cervello e sapete quella è la cosa interessante che il fatto di stare svegli o il fatto di dormire o il fatto di dormire secondo un certo ritmo ecco tutto questo vedete viene comandato da delle zone che sono profondamente al cervello poi in realtà poi quello che io faccio quando sono sveglio in questo momento la mia corteccia cerebrale sveglia ma l'input parte dal basso è lo stesso quando io dormo o lo stesso quando io seguo una certa ritmicità del sonno e della veglia questo è un aspetto appunto importante ma questo è l'elettroencefalogramma questo è quello che io posso registrare nelle diverse condizioni voi pensate come il mio cervello può variare nell'arco delle 24 ore la prima traccia che vedete su in alto vedete questa è la condizione della veglia d'occhi aperti quella che dovremmo avere tutti noi in questo momento spero poi qualcuno l'ha già fatto anche prima lo sta facendo sta chiudendo gli occhi chiude gli occhi e compare quell'attività che sembra quasi un pettine quella che si chiama appunto attività alfa che vedete qui poi qualcuno ma spero di non arrivarci piano piano si rilassa talmente tanto chiude talmente gli occhi e cade nel sonno ed è questa la terza traccia quello che si chiama stadio 1 non REM quindi si entra nel sonno poi spero e qui non ci arriviamo spero di no perché se no questo sarebbe già lo stadio 2 del sonno e pensate lo stadio 2 è quello che noi chiamiamo lo zoccolo duro del sonno perché noi passiamo il 50% della nostra notte in questo stadio particolare questo stadio che è caratterizzato da queste figure che si chiamano spindles e da queste figure che si chiamano complessi K il 50% della notte lo passiamo così con questo stadio particolare questo lo stadio 1 e lo stadio 2 fanno parte di quello che si chiama sonno leggero non REM che va differenziato da quello invece che vedete qui questo è il coma quello stadio ad onde lente ampie molto ampie molto lente che è quello che si chiama sonno profondo perché dico questo perché molte volte quando anche alcuni miei pazienti mi parlano dicono ecco sai io forse non ho il sonno profondo perché non ho il sonno REM il sonno REM non è il sonno profondo il sonno REM è questo è l'ultima traccia che vedete qui ed è sonno particolare il sonno REM è il sonno in cui si sogna e pensate che il sonno REM si chiama anche sonno paradosso ma perché si chiama sonno paradosso perché pensateci bene cosa succede durante il sonno REM il soggetto sogna e quindi il cervello è molto sveglio il soggetto muove gli occhi e quindi fa qualcosa che fa anche come se fosse durante la quello che succede anche durante la veglia e se voi andate a vedere poi ve lo farò vedere l'attività cerebrale durante questa fase di sonno REM pensate che dal punto di vista metabolico queste aree sono addirittura più attive che durante la veglia ecco perché sonno paradosso è un sonno che è quasi più vicino alla veglia che non al sonno vero e proprio andiamo avanti se voi vedete bene anzi no scusate andiamo indietro perché mi sono dimenticato di una cosa particolare se voi vedete la prima traccia quello che ha il nostro signore lì che sveglio con gli occhi aperti la terza traccia quello che l'altro signore lì che sta già chiudendo gli occhi sta entrando nel sonno e l'ultima traccia scusate l'ultima traccia che è questa che è quella del sonno REM voi notate una cosa molto interessante la prima la terza e l'ultima sono delle tracce che sono molto stavo pensando di sognare in questo momento che sono io perché il ministro è reale non è un sogno lo stavo sognando grazie ministro grazie il ministro di essere venuta adesso finiamo con sì ministro tre minuti le spiego tutto in tre minuti in tre minuti quindi sì vi facevo vedere appunto la prima la terza e l'ultima traccia sono tracce che dal punto di vista elettroencefalografico sono molto simili tra di loro ecco perché quando si studia il sonno non ci si accontenta solo dell'attività cerebrale ma bisogna registrare anche altre attività i movimenti oculari che sono appunto rapidi durante il sonno REM e il tono muscolare sapete perché è importante il tono muscolare? questa è un'altra di quelle cose che dobbiamo assolutamente sapere durante il sonno REM quando noi sogniamo siamo paralizzati e uno si dice come paralizzati? ma io ho sognato cosa ha sognato l'ultima volta che stava correndo ecco in realtà lei era paralizzata ma perché era paralizzata? per fortuna immagini lei sognava di star correndo suo figlio stava sognando di andare in bicicletta suo marito stava sognando di lavare la macchina tutti noi se durante il sonno REM mettessimo in azione in scena quelli che sono i nostri sogni le nostre case sarebbero dei teatri ogni notte perché invece noi siamo paralizzati paralizzati e l'altra cosa interessante è questa il percorso che noi facciamo tutte le notti io qui sono sveglio poi mi addormento vado in fase 1 poi in fase 2 poi vado in sonno profondo quel sonno adondelente poi il sonno si alleggerisce e compare la prima REM questo ciclo non REM REM si ripete 4-5 volte nel corso della notte ma sapete qual è la cosa interessante che il sonno profondo quello adondelente quello molto lento il coma è soprattutto presente nella prima parte della notte mentre più mi avvicino al mattino è più presente il sonno REM il sonno in cui si sogna uno può dire qual è l'implicazione pratica di tutto ciò l'implicazione è molto semplice quando io vado a letto la sera e questo anche per il nostro ministro si è stanchissimi uno non ne può più allora deve recuperare e come si fa a recuperare lo si fa grazie a questo sonno profondo adondelente questo coma poi però tutti noi compreso il nostro ministro al mattino quando ci si deve quando per lei in questo periodo si ma qualche incubo ce l'ha quando ci si avvicina al mattino il mio cervello deve risvegliarsi deve essere pronto deve essere capace di riadattarsi subito alla condizione della veglia ecco perché c'è tanto sonno REM durante le ultime parti durante l'ultima parte della notte nelle ultime due o tre ore quindi sogno tantissimo e sono subito pronto per riprendermi per ricordarci questo devo citare un attimo mia nonna e poi la citerò anche nella prossima diapositiva ditemi quando devo chiudere ma chiudo quando volete voi ok sapete cosa diceva mia nonna se qualcuno cerca di svegliarmi in questa fase qui io sono difficilmente risvegliabile ed è vero se qualcuno cerca di svegliarmi quando avete quella fase di sonno con le onde molto lente sarà difficilissimo risvegliarvi tant'è vero che lei che poveretta aveva subito tre furti negli ultimi anni della sua vita questi furti erano sempre avvenuti verso tra l'una e le due del mattino allora mia nonna a un certo punto cosa aveva fatto aveva deciso che lei cominciava a dormire dalle tre le quattro in avanti perché aveva capito che i ladri avevano capito che per andare a rubare nelle case delle signore anziane bisognava andarci verso l'una e le due di notte quando verosimilmente erano più in questa fase di sonno e non in questa dove si è invece facilmente risvegliabili ma l'ultima cosa per cui volevo citare mia nonna è questa voi pensate questo vale anche per il nostro ministro valeva la pena oggi essere qui solo per vedere questa diapositiva perché ci fa capire delle cose importantissime questo è uno studio sul metabolismo cerebrale fatto con quell'esame che si chiama PET no? la PET la famosa PET che noi guardate cosa succede quando vedete rosso rosso vuol dire massima attivazione senza nessuna connotazione politica e qui parliamo di attivazione cerebrale quando vedete giallo il giallo vuol dire massima deattivazione quindi riposo quando vedete arancione l'arancione è una condizione intermedia così e così allora guardate bene questo è quello che succede scusate questo è quello che succede nella veglia alle 10-11 di sera com'è il nostro cervello? rosso rosso perché massima attività metabolismo cerebrale al massimo guardate cosa succede e io sono sveglio lì guardate cosa succede alle 7-8 del mattino alle 7-8 io qui sono sveglio questa è la veglia dopo il sonno al risveglio vedete cosa succede per buona parte del cervello il cervello è arancione esattamente quello che diceva mia nonna quando ero piccolo mi diceva quando ero adolescente tu alla sera sei leone al mattino sei arancione perché mia nonna non diceva le parolacce arancione perché si è in questa condizione di metabolismo intermedio allora qual è l'implicazione importante di tutto ciò? voi sapete che dentro di noi c'è un orologio biologico che ci dice quando dobbiamo andare a dormire e quando ci dobbiamo alzare e questo orologio biologico è importante perché? perché voi sapete che ci sono delle persone che sono normali quelli che vanno a dormire alle 11 di sera e si alzano alle 7 del mattino e allora in questi casi questo arancione dura un quarto d'ora poi ci sono le allodole quelli che alle 8 di sera vorrebbero già andare a dormire però poi alle 5 del mattino sono già svegli e quindi qui chiaramente questo arancione dura due minuti un minuto e poi ci sono i gufi i gufi sono quelli che vorrebbero andare a dormire alle 3 le 4 del mattino ma che poi vorrebbero dormire fino a mezzogiorno allora qual è il problema che in un gufo questo arancione qui dura 3-4 ore 5 ore allora voi immaginate l'implicazione e lo dico anche al ministro un cardiochirurgo al ministero c'ha tutti i gufi dice il ministro questo purtroppo è un dato importante ma al ministero al ministero magari danni ne fanno ma poi c'è lei che controlla e quindi i danni sono limitati ma voi pensate a un cardiochirurgo fanno di moda in questo periodo i cardiochirurghi voi pensate a un cardiochirurgo gufo un cardiochirurgo gufo fa l'intervento il primo intervento alle 8 del mattino sapete qual è il dramma il dramma è questo il gufo è sveglio ma il suo cervello è arancione e quindi non ha esattamente la percezione di quello che sta facendo è sveglio però il rischio di sbagliare è altissimo perché altissimo perché non è ancora connesso quando è che in un gufo questo arancione diventa rosso verso mezzogiorno allora vedete le implicazioni importanti che si hanno dal punto di vista proprio pratico io però cosa dite qua forse mi mi fermerei se non per dire un'altra cosa l'ultima che poi dopo lasciamo un po' alle domande eventualmente si diceva prima è importante dormire ma perché è importante dormire vi cito soltanto questa cosa è importante dormire perché quando noi ci addormentiamo andiamo a letto una delle azioni più importanti che avvengono nel nostro organismo è l'inibizione del cortisolo che è l'ormone dello stress quando noi dormiamo soprattutto nelle fasi di sonno molto lento profondo quella specie di coma che abbiamo visto prima il cortisolo viene inibito e quindi questo cosa vuol dire la pressione arteriosa si abbassa la frequenza cardiaca si abbassa il mio apparato cardiocircolatorio si riposa se io non ho questo sonno e non dormo in maniera corretta il rischio ad esempio di malattie cardiocircolatorie sale moltissimo pensate ai turnisti e qui veramente concludo il turnista chi fa il lavoro di notte non dorme di notte e dorme di giorno allora uno può dire ah che bello tutto quello che non ha fatto di notte fa di giorno c'è però un piccolo problema che se noi dormiamo di notte il cortisolo viene inibito e la pressione si abbassa il turnista che dorme di giorno in quel sonno diurno che fa non ha questa capacità in quel sonno di abbassare il cortisolo e questo ad esempio spiega perché i turnisti hanno un rischio tre volte superiore a chi turni non fa di sviluppare ipertensione arteriosa e quindi capite che tutto questo ci fa capire l'importanza del sonno e questa è proprio l'ultima l'ultima questo è un mio amico coreano il direttore delle neuroscienze di Seoul che si chiama Bong Hong sembra quasi un fumetto un fumetto asiatico ma Bong Hong ha fatto questo bellissimo studio in cui ci dimostra che quando io non dormo e lui l'ha fatto negli insonni questa insonnia più si va avanti e più fa rinsecchire più fa diminuire il volume dell'ippocampo l'ippocampo è una struttura importantissima per il sonno allora guardate qui cosa succede questi sono gli anni di insonnia e queste sono la misura dell'ippocampo l'ippocampo si riduce sempre 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 di più diventa sempre più piccolo e allora basta pensare soltanto a queste due cose il cortisolo e la memoria con il volume ipocampale e allora ecco io adesso qui mi fermo e l'augurio è che tutti noi possiamo dormire molto bene questa notte perché dormire è importante si ferma non certo perché si sono esauriti gli argomenti si ferma giusto così perché allora salutiamo subito le ospiti grazie al ministro Beatrice Lorenzin che fa l'onore alla fondazione Atena Onlus di partecipare al suo convegno grazie grazie a Giovanna Melandri la nostra padrona di casa di ospitarci in questo splendido maxi in questo splendido museo dell'ediretto andiamo avanti ministro ci vuole dire qualcosa? ecco allora no le domande subito dopo l'intervento del prof Bria faccio solo le domande perché a parte ovviamente un saluto necessario ad Atena Onlus con il quale ormai stiamo facendo tante di quelle cose e veramente a tutti i vostri straordinari ospiti di stasera questo è un settore ed è un argomento interessantissimo poi dopo l'intervento del professore io non posso dire nulla forché il fatto che tutti noi sappiamo nella nostra vita quanto sia importante dormire ci sono alcuni temi no? educare al sonno per esempio i bambini noi abbiamo una deprivazione di sonno dei nostri bambini questo comporta dei seri deficit cognitivi e comunque un'alterazione li facciamo dormire poco abbiamo da imposto ai nostri figli questo è un problema in occidente dei ritmi sonnoveglia che sono dei ritmi adeguati alle nostre esigenze non a quelle dei bambini i bambini vanno a letto troppo tardi quindi sono arancioni per un lungo periodo anche a scuola o nel risveglio mattutino e questo per esempio è un tema di educazione al sonno c'è il tema ovviamente legato alle questioni del lavoro quindi come lei ha sottolineato sia l'esempio del turnista che di altre professioni che possono avere un logoramento c'è un tema poi di come fare a far dormire le persone che non dormono che non riescono a dormire che soffrono di insonnia fino a che punto utilizzare i farmaci noi abbiamo un abuso di farmaci diciamo psicotrici nel nostro paese ne consumiamo troppi è un altro tema nell'occidente quindi se ci sono misure diverse per educare il sonno piuttosto che all'assunzione del farmaco o ad un'assunzione non controllata del farmaco questo può essere anche questo un aspetto estremamente interessante e come facciamo a conciliare l'input della nostra vita moderna piena di segnali che ci arrivano da tutte le parti che sicuramente disturbano il nostro modo di dormire però non erano queste le domande le domande che mi sono venute mentre parlava il ministro pensavo a una fase che sto superando in questo momento subito posto la gravidanza io sono morem ma non ho più saputo cioè sognavo ma il sonno profondo dove non ti svegliano non ho più saputo che cosa fossero come fa una persona a vivere io me lo sono chiesto in questi mesi tutte le donne presenti sanno di cosa parlo ho i figli in una stanza che sono separati dalla mia da un corridoio e tre porte fa una e io lo sento mezzanotte l'una le due le tre un segnale una trasformazione del nostro corpo misterioso veramente misteriosa eppure sono riuscita ad essere ancora normale non lo so se questo è tale è vero ma mi sembra di esserlo e l'altra domanda che mi veniva in mente guardando appunto tutti i suoi tutti i suoi grafici è legata sempre alla fase invece del sogno dal diciamo se avete vi siete inventati un modo per controllare gli incubi o controllare i sogni no? è possibile farlo? no non è possibile come come li studiate i sogni il sogno è legato alla coscienza alla conoscenza al cui entriamo nella psichiatria ma c'è un modo per per controllare il sogno per esempio no? questo è visto che oggi tutt'oggi mi occupo di cose fantascientifiche sull'innovazione chissà se loro hanno trovato oltre che farci le pet anche leggere i nostri sogni se ci si sta arrivando oppure meno e e nulla poi insomma le domande sarebbero tantissime ma soprattutto come educare al sonno che forse c'è anche questo aspetto grazie grazie ministro grazie allora il ministro posso rispondere velocissimamente velocissimamente perché poi il ministro ha chiamato in causa lo psichiatra no ringrazio il ministro perché ci dà modo di due o tre cose veramente importanti partiamo dalla prima sua personale la post gravidanza il sonno post gravidanza questo ormai è stato studiato ampiamente le donne dopo il parto hanno un pattern di sonno completamente diverso ed è proprio caratterizzato dal fatto che il sonno diventa molto più leggero diventa molto più leggero perché aumenta questa capacità di stare in allerta e sentire anche quello però qual è l'aspetto fondamentale è che cambia un po' anche il pattern di sonno cioè nel senso che quando poi il soggetto la mamma impara queste cose tra un intervallo e l'altro riesce a piazzarci dentro anche più sonno profondo e questo può capitare anche verso il mattino tant'è vero che a volte la mamma la mamma giovane mamma fa fatica al mattino proprio perché ha un recupero interno di sonno profondo l'altra domanda importante invece del sonno dei bambini importantissimo voi sapete che Obama circa tre anni fa si era molto preoccupato perché aveva visto che il quotiente intellettivo dei bambini degli studenti americani si era abbassato come? allora dice ma come? si andava meglio quando c'erano i repubblicani i bambini erano più intelligenti arrivano i democratici i bambini sono più stupidi in realtà poi ha scoperto una cosa fondamentale che è questa la conosco perché poi ho partecipato un po' anche io all'evoluzione di questa faccenda l'American Pediatric Association si era accorta che in realtà il quotiente intellettivo dei bambini che era diminuito era dovuto al fatto che i bambini dormivano di meno e allora è partita subito questa diciamo sorta di consiglio in tutte le scuole di partire con mezz'ora tre quarti d'ora dopo con l'inizio delle lezioni cioè quindi permettere ai bambini di avere un periodo di sonno diciamo un pochino più prolungato certo è vero che noi comunque diamo ai nostri figli delle abitudini molto molto sbagliate io ad esempio quando entro nelle librerie alla sera magari dopo cena alla Feltrinelli le varie librerie dove uno va a Mondadori a vedere qualche libro eccetera vedi questi bambini piccoli trascinati dai genitori a quell'ora i bambini devono dormire e lo stesso vale anche negli asili vale anche nelle scuole nei nidi dove adesso si è persa l'abitudine di far dormire i bambini al pomeriggio grandissimo errore anche se poi c'è qualcuno che ogni tanto fa vedere dei risultati che sono però in realtà se andiamo a considerare veramente in maniera ponderata i risultati i bambini dovrebbero dormire anche al pomeriggio e quindi questo è un altro aspetto importante ma visto che c'è qui lei cara signor Ministro il problema fondamentale qual è? Il sonno e non parliamo poi di tutte le varie patologie perché qui non abbiamo parlato di patologie che sono 60 secondo la classificazione internazionale e sono costituiscono un problema importante se parliamo di patologie oltre il 10% della popolazione generale ha un disturbo del sonno serio quindi o insonno ossia si va sonolenza eccetera sapete qual è la cosa drammatica ed ecco perché io approfitto sempre anche dell'invito e ringrazio il nostro ospite che è stato gentilissimo a invitarmi con questo tema il problema è che e lo dico con un dato di certezza perché abbiamo fatto una ricerca in tal senso nei sei anni di medicina del corso di laurea di medicina e chirurgia le ore dedicate ai disturbi del sonno alle problematiche del sonno che occupano più del 10% sapete quante sono? no sono no no ministro un po' di più sono circa 72 minuti in sei anni di corso di medicina e allora voi capite questo che è il grande veramente secondo me il grande problema cioè a volte noi ai nostri studenti lo dico anche io come docente universitario perdiamo tante ore a spiegare delle robe di genetica complicatissime delle non so quelle forme stranissime di leucodistrofia metacromatica che non ne vedranno mai un medico normale non ne vedrà mai uno nella sua vita e poi magari di problemi importanti come la sindrome gambe senza riposo la narcolessia la sindrome della penostruttiva tanto per citarne qualcuna le insonnie gravi eccetera poveretti i nostri medici non sanno come trattarli perché non hanno gli strumenti per poterlo fare quindi non voglio essere per carità di Dio non voglio rovinare la positiva però ecco secondo me questo è un aspetto è un aspetto importante perché ripeto il sonno è veramente è veramente importante non a caso insomma non è un caso che dormiamo così tanto si diceva prima quanto il sonno sia importante per l'apprendimento noi apprendiamo organizziamo le nostre memorie organizziamo la nostra cultura e il nostro futuro dormendo allora i bambini che devono fare esperienza devono imparare molto hanno bisogno di dormire tanto di far dormire poco significa già togliergli le ore che sono importanti per l'apprendimento il sonno è importante per la salute psichica per la salute del nostro cervello noi invecchiamo bene se dormiamo bene per cui a ragione frenistrammi cioè dovremmo veramente educare al sonno educare al sonno giusto ci sono delle ricerche che dicono se si dorme meno di 5 ore o più di 8 ore vengono problemi gravi problemi di memorizzazione il cervello funziona male invecchia prima vengono malattie cardiovascolari viene il diabete viene l'obesità quindi dormire bene è fondamentale allora continuiamo questo viaggio meraviglioso che stiamo facendo all'interno del nostro cervello Giovanna andiamo un pochino avanti fidiamo il giro eh ok allora fidiamo il giro dei nostri relatori qui davanti adesso c'è lo psichiatra lo psicanalista e naturalmente di sogni ci sarà molto di cui parlare allora intanto è vero che il sogno è una finestra sul nostro inconscio come diceva Freud subito si si può dire si intanto buonasera grazie dell'invito io ho scelto non ho portato molte slide ne ho portate pochissime dalle quali mi lascerò un po' ispirare perché sono due citazioni una di un grande poeta del novecento cimitero marino di Paul Valéry scintilla il tempo e il sogno e conoscenza Valéry subito dopo ce n'è un'altra che è Dante il paradiso questo è l'ultimo canto del paradiso in cui forse è uno dei punti più sublime della poesia di ogni tempo nel suo profondo vidi che si interna legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna questo è la la è Dante attonito dinanzi alla visione addirittura di Dio cioè no quindi come si può vedere con gli occhi nostri limitati una realtà infinita che è Dio cioè così il paradiso si chiude con questo con questa con questo messaggio no messaggio di amore che può legare quello che in qualche modo no non si può manifestare completamente all'occhio umano dice che c'entra questo con il nostro sogno c'è un terzo però slide questo qui l'ho accostato a Dante ma sono i disegni di un bambino questi sono i disegni di un caso storico della psicoanalisi si chiama il caso Richard l'ha seguito una delle grandissime ciao l'ha seguito una delle grandissime psicoanaliste del dopo Freud Melanie Klein e Melanie Klein analizza attraverso i disegni come se fossero dei sogni cioè il mondo interno di questo ragazzo che si chiamava Richard aveva nove anni io mi sono fermato molto su questo un scritto su questo disegni degli imperi che la Klein segue d'altronde è una cosa molto interessante mentre Londra era bombardata dai tedeschi quindi c'è una situazione in questo è un grosso volume che è la storia della terapia di questo ragazzo che è tragica e profonda anche sotto tanti aspetti perché l'analisi si svolge mentre diciamo Londra è colpita dalla bombarderia dal bombardamento tedesco e la Klein cerca completamente di bilanciare questo spazio esterno della guerra con la guerra interiore di questo ragazzo quindi una cosa molto interessante però capiremo dopo perché è interessante i disegni però volevo un po' insomma stiamo al maxi quindi bisogna un po' lasciarsi prendere volevo iniziare con un ricordo personale un ricordo di una visita archeologica di tanti anni fa che ci introduce in questo tema del sogno tanti anni fa si andava in Grecia quando eravamo più più giovani la Grecia era il luogo fuori dall'Italia che si poteva così un po' frequentare però una volta andai a Tassos che è un'isola che si trova e poi mi lanciai in Turchia a visitare i luoghi straordinari archeologici della Turchia e andai ad Efeso ma poi risalento andai a visitare Pergamon ora Pergamon fui molto colpito perché alle basi della sua splendida acropoli c'è il famoso Asclepeion questo santuario dove tra l'altro si 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 sente si sente bene diciamo un sacco di ospiti importanti diciamo nella nella Asclepeion in questo santuario gli adepti chi lo frequentava no che è successo che dobbiamo fare prego prego insomma faccio la psicoanalisi del ministro no 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 allora no allora c'erano il luogo delle abluzioni poi c'era un corridoio straordinario ben tenuto no ben conservato e poi dopo le abluzioni gli adepti i pazienti insomma diremmo così attraversavano il corridoio sollecitati dai sacerdoti che stavano intorno e approdavano alla stanza dei sogni questa è una cosa per me straordinaria perché andavano erano invitati a sognare e poi ricordavano il sogno e dal sogno diciamo si interpretava si poteva prevedere quello che sarebbe successo il futuro questo che vuol dire che già molti anni fa in Asia Minore cioè il mentre un grande studioso come Artemidoro scriveva la prima interpretazione dei sogni cioè Artemidoro che di Daldi poi tutti dicono che era di Efeso perché Efeso è molto più conosciuto ma Daldi credo che stia vicino ad Efeso scrive questo questo testo in cui il sogno aveva una ricchezza di significato che nello stesso tempo era carico di un sapere divinatorio questo in qualche modo parlava il Dio attraverso i sogni e nello stesso tempo predittivo cioè attraverso i sogni si poteva sapere il futuro si poteva conoscere la vita della persona e quello che sarebbe successo tenete conto che nello stesso tempo nasceva perché lì vicino c'era anche Ippocrate e quindi nasceva anche lo studio medico del sogno quindi la ricerca medica del sogno nasce insieme alla ricerca diciamo un po' psicologica che diciamo facciamo risalire all'epoca ellenistica cioè dove c'è il primo testo importante questo significa che ricerca medica e ricerca psicologica perché naturalmente il sogno nasce con questa ricchezza psicologica che annuncia no addirittura talmente carico prima di di entrare poi nel sapere scientifico ma contemporaneamente si si declinavano i due sapere potevano secondo me anche convivere tra di loro e questo che vuol dire che la prima cosa che dobbiamo puntare io ho studiato una serie di di punti che cos'è il sogno che prima di arrivare a Freud dobbiamo dire ma cos'è il sogno qua abbiamo detto che non è solo importante dormire perché importante è poco è necessario dormire questo che vuol dire che se noi veramente fossimo dei privati totalmente di sonno potremmo morire questo sui ratti credo che l'hanno studiato in realtà quindi noi abbiamo necessità quello è un dispositivo che si attiva ogni notte ed è necessario cioè non è che possiamo fare e perché è necessario Tononi che è un mio carissimo amico che ha questo grande centro di neuroscienze nel Wisconsin è uno dei cervelli che ha deciso di rimanere in America e dice che la sua ipotesi è che il sonno è necessario perché assicura la plasticità delle nostre sinapsi quindi questo è molto importante per tutti i discorsi che sono stati fatti perché è anche vero che se le sinapsi poi si inaridiscono sono poco plastiche viene meno si giustificano tutti i disturbi cognitivi e affettivi che nascono dalla deprivazione del sonno noi oggi dobbiamo anche questo pomeriggio dimostrare che se il dispositivo del sonno è necessario è anche necessario sognare e questo è un po' meno perché è anche importante sognare ma qui anche che è necessario sognare anche se non ricordiamo i sogni quello è un altro discorso perché non sono tutte chiare i meccanismi per i quali sogniamo e per i quali dimentichiamo gran parte dei nostri sogni cioè più quello che dimentichiamo che quello che ricordiamo allora la prima domanda cioè la prima domanda che ci dobbiamo fare che cos'è il sogno è un evento mentale e questo non è scontato cioè no che sia un evento mentale perché quando diciamo un evento mentale attribuiamo al sogno una funzione conoscitiva una valenza cognitiva cioè no quello che dice Valerì il sogno è conoscenza no questo già è un primo passo cioè il sogno è un evento mentale che è radicato nell'attività del nostro cervello quindi cervello e mente funzionano no assicurando questo tipo di dispositivo che però proprio per essere mentale è dotato di una significazione di un significato perché quando noi diciamo mentale allora questo pone una prima linea divisoria il sogno come significato il sogno come conoscenza e invece una linea che ha fatto del sogno e che esistono tutti i ricercatori un evento puramente fisiologico cioè una linea fisiogenetica del sogno no che naturalmente c'è anche grandi ricercatori io qui avevo citato soprattutto due grandi ricercatori americani Hobson e McCarley che nelle anni 70 gli anni 80 hanno fatto questa ipotesi della ipotesi della attivazione sintesi per questi ricercatori il sogno nasce dal tronco encefalo immaginate quindi una di cui in modo caotico in modo puramente casuale investe la corteccia cerebrale in un modo quasi auto insomma interno diciamo che si auto organizza e la corteccia fa quel che può per dare un significato a questa attività quindi naturalmente in questa visione tra l'altro tanti anni fa fu fatto un grande convegno proprio a Roma con Hobson che era uno dei due che aveva riformulato anche l'ipotesi e fu un invitato di grandi psicoanalisti un grande psicoanalista che io non debo di citare Matteblanco che stava a Roma un grandissimo psicoanalista del dopo Freud c'era Fornari c'era Mario Bertini della Cattolica che studiava allora tutta la dinamica così del sogno e naturalmente si posero in maniera critica rispetto a quest'ipotesi che per essere puramente fisiogenetica esiliava il sogno dal regno del significato cioè il sogno non ha nessun significato quindi tutta la teoria freudiana veniva praticamente buttata via perché perché dico buttata via perché la seconda linea che oggi anche la maggior parte dei ricercatori accetta parte proprio dal contributo di Freud cioè a un certo punto alla fine dell'ottocento agli inizi del novecento fine ottocento perché l'interpretazione dei sogni fu scritta nel 1899 e entra nella scena della psicologia questo grandissimo biologo e psicologo Sigmund Freud che pone il sogno al centro del funzionamento del suo del funzionamento della mente e anche conseguentemente lo pone come un elemento fondamentale per il trattamento dei disturbi che la psicoanalisi si proponeva di approfondire anzi Freud ne fa una specie di punto di incontro tra le reti della coscienza che organizzano il mondo in un certo punto e un livello della mente a cui lui dà il nome di inconscio naturalmente ho l'ingrato compito di ricordare i tempi i tempi purtroppo parlando di questi argomenti no dico questo dico questo perché dalla nascita di Freud che naturalmente la nascita del pensiero floridiano che pone il sogno in questa centralità tenete conto che prima dell'interpretazione dei sogni Freud scrive un'altra opera molto importante il progetto di una psicologia dove elabora in maniera geniale un dispositivo molto particolare che dice che cosa succede quando noi sogniamo prima che descrivere poi l'interpretazione dei sogni quando siamo disconnessi dalla realtà quando siamo bloccati nella motricità che cosa succede succede che si attiva una forma di coscienza diversa favorita proprio questo è un mistero grande donone giustamente ha scritto noi non sappiamo perché questo succede perché mentre siamo disconnessi si attiva tutta questa realtà no la cui cornice neurobiologica è stata ben esposta che non so non è il centro che può essere molto più diffuso durante la notte delle prime così formulazioni quindi dice Freud ci disconnettiamo dalla realtà ma non smettiamo ma il cervello non smette di funzionare cioè no si attivano forme di coscienza oniriche e similoniriche che ci accompagnano noi dobbiamo capire perché abbiamo bisogno quindi anche di sognare tenete conto che quando Freud questo è un piccolo inciso poi possiamo ritornare scriveva quest'opera in Francia nasceva il cinema questo non è una cosa di poco conto perché il cinematografo che nasce negli stessi anni tant'è vero che la prima rivista di questi psicologi del cinema erano tutti centrati sui rapporti tra il cinema e il sogno come era chiaro che quello che Freud stava facendo di questo dispositivo per cui mentre siamo bloccati si attiva una forma di coscienza diversa che naturalmente poiché bloccata la motricità si scarica sul dato percettivo e si trasforma in un dato allucinatorio quindi alluciniamo durante il sonno alluciniamo e dice Freud alluciniamo perché solo così noi possiamo soddisfare quell'insieme lui l'ha chiamato il sistema Y dove c'erano desideri pulsioni poi ritorniamo setta prof ci ha aperto tutti questi orizzonti per cui la ringraziamo moltissimo la seconda parte poi dobbiamo arrivare ai disegni perché questa vicenda dell'inconscio non è semplice anche in Freud stesso grazie prof allora venga qui professor Bria perché chiudiamo il giro dei relatori adesso con il professor Strinati grazie ministro di essere stata con noi ancora grazie il critico lo storico dell'arte che ci parlerà siamo andati a incontrarlo a casa sua due giorni fa e con lui naturalmente abbiamo parlato dei sogni nell'arte quanto l'arte si ispira al sogno allora sentiamo l'opinione del professor Claudio Strinati con lei professor Strinati volevamo parlare del sogno nella storia dell'arte certo rappresentare i sogni è un po' un paradosso perché i sogni si vedono si ascoltano ma accade tutto nella mente gli artisti antichi come hanno rappresentato i sogni? insomma sono partiti dalla Bibbia cioè praticamente la prima fonte di ispirazione per l'arte sul tema dei sogni è la Bibbia perché nella Bibbia ci sono due personaggi molto legati al sogno una è Giuseppe che interpreta i sogni del Faraone e spiega al Faraone quale sarà il destino dell'Egitto ci sono dei sogni famosissimi le sette vacche grasse le sette vacche magre i pittori hanno rappresentato ripetutamente questa cosa poi l'altro personaggio è Giacobbe il quale mentre fugge nel deserto si addormenta e sogna gli angeli che salgono e scendono da una scala e questa salita e discesa viene interpretata come la premonizione della terra promessa che arriverà quindi la Bibbia è una fonte formidabile di ispirazione e poi anche il primo cristianesimo per esempio un sogno molto rappresentato dagli artisti è il sogno di Costantino Piero della Francesca per esempio lo ha rappresentato in un affresco bellissimo dove si vede Costantino che sta dormendo e sogna il futuro che arriverà cioè la vittoria della Chiesa la vittoria del cristianesimo quindi una solennità molto legata alla dimensione religiosa Il sogno premonitore che è un po' una costante nella storia dell'uomo una credenza popolare che attraversa tutte le tradizioni in maniera diversa ecco nell'arte questo aspetto come viene rappresentato? Lo rappresenta nella rievocazione di episodi celeberrimi anche in questo caso sempre prima nella storia della Chiesa a Roma c'è l'esempio più importante di tutti che è il sogno premonitore del Papa il Papa Liberio e che è la storia della fondazione di Santa Maria Maggiore in secoli remotissimi un patrizio romano sogna durante la notte la Vergine Maria che gli appare e gli dice è agosto però domani mattina nevicherà allora tu vai vai dal Papa perché io appaio anche al Papa e gli prescrivo di fare un tracciato per terra dalla neve e lì sorgerà una chiesa dedicata a me la mattina dopo questo patrizio va dal Papa e il Papa dice guarda sì ho sognato la stessa cosa e viene costruita Santa Maria Maggiore che esiste tuttora e nella rappresentazione artistica dell'episodio questa possibilità di dare concretezza ai sogni cioè il sogno premonitore è concretissimo sembra vero e io ho scelto proprio l'immagine che si trova a Santa Maria Maggiore un mosaico del 1300 bellissimo dove si vede la Vergine in alto che ispira il sogno di questo patrizio ecco un esempio di preponizione poi c'è un esempio bellissimo che è Michelangelo Buonarroti Michelangelo era molto interessato al problema dei sogni e al fatto che il sogno appare per prefigurare qualche cosa che accadrà c'è un disegno di Michelangelo bellissimo che si chiama il sogno della vita umana dove si vede un angelo che scende dal cielo con una tromba che suona fortissimo un uomo che si desta a questo suono ma in realtà sta dormendo e intorno si vede ciò che sta sognando sta sognando l'evoluzione stessa dell'essere umano e le sue aspirazioni insomma un modo molto impressionante di rappresentare il sogno del linguaggio colloquiale sogno la parola sogno viene utilizzata in senso metaforico per esprimere un desiderio un'aspirazione che sembrano irrealizzabili sarebbe un sogno si sente dire spesso riferito sia a fatti pratici che a fatti sentimentali ecco nell'arte come viene rappresentato questo aspetto del sogno c'è un esempio che secondo me è il più bello di tutti ed è la canzone di Migliacci Modugno nel blu dipinto di blu Migliacci ha raccontato che quando fu creata questa canzone si era ispirato a un quadro di Marc Chagall che rappresenta appunto un sogno e Chagall è un pittore russo del novecento che ha molto puntato su questo fatto i personaggi che sono diciamo veri ma in realtà sono frutto della fantasia della favola e volano sovente volano nello spazio c'è un quadro di Chagall bellissimo di lui con la sua compagna che si libra in volo e lui la tiene ferma con la mano Migliacci si ispirò a qualcosa del genere nel blu dipinto di blu viene da un quadro di Chagall e la canzone dice penso che un sogno così non ritorna mai più è proprio questo è proprio l'immagine dell'aspirazione che forse non verrà mai però io intanto la rappresento artisticamente allora il sogno nell'immaginario popolare ma anche nell'esperienza di ciascuno di noi può essere bello o brutto l'incubo che si presta bene ad essere rappresentato sia nella pittura che nella cinematografia ci sono i film dell'orrore i gialli i film di fantascienza ecco questo aspetto nell'arte come viene raccontato questo è stato trattato molto in quel periodo storico che noi chiamiamo illuminismo il romanticismo c'è un un pittore svizzero dal fine del settecento Fiusley Johanna Erich Fiusley che ha dipinto un quadro celeberimo che si chiama l'incubo dove si vede in effetti una donna riversa sfinita come appunto in preda a terribili fantasie e sopra di lei sulla sua pancia c'è un mostro una specie di scimmione terrificante come se l'incubo fosse un parto un parto mostruoso che è la stessa identica logica di tanti film di fantascienza da alien in poi cioè il fatto che quando la mente sogna l'orrore partorisce qualche cosa di terrificante e questo è un filone che in effetti arriva fino ai thriller ai gialli pensiamo a un esempio memorabile la connessione tra Hitchcock e Salvatore Dalì ci sono alcuni film di Hitchcock uno in particolare quello che noi chiamiamo Io ti salverò in italiano alcuni alcuni momenti sono proprio disegnati dipinti da Salvatore Dalì per dare appunto l'idea della proiezione dell'incubo che esce dalla nostra mente che noi vediamo come una rappresentazione vera e in effetti in questo Hitchcock è stato straordinariamente visionario e quindi questa dimensione dell'incubo poi diventa nell'arte importantissima del resto il grande pittore Goya che lui all'inizio dell'Ottocento fece un disegno un'incisione che dice il sonno della ragione genera mostri che è una logica molto simile a quella di Fusley lui parla di sonno non di sogno ma di fatto il dormiente in quella immagine è colui dalla cui testa escono i mostri i fantasmi quest'anno viene celebrato il 500esimo anniversario della morte di uno dei pittori più importanti di tutta la storia dell'arte Hieronymus Bosch ecco in lui la dimensione onirica era molto importante è una cosa interessante perché Bosch è un pittore che vive nel quel periodo che noi chiamiamo rinascimento quindi il rinascimento è comunque un periodo improntato a grande razionalità e precisione invece lui a seguito di tutta una serie di problemi di carattere religioso sociale ricordiamoci soltanto una cosa che Bosch era della stessa epoca del grande filosofo Erasmo da Rotterdam che è quello che scrisse un libro all'epoca famosissimo L'elogio della follia Erasmo da Rotterdam intende dire che dentro la testa dell'uomo non c'è soltanto la razionalità ma c'è la irrazionalità che spesso vede e capisce molto più della razionalità i quadri di Bosch spesso rappresentano cose totalmente irrazionali dal punto di vista logico e che tuttavia sono proiezioni di sogni in uno dei suoi quadri c'è la sua stessa immagine in cui lui rappresenta se stesso che sta sognando in una dimensione di sconvolgimento totale di tutte le cose intorno a lui e che comunque all'epoca aprì molto le menti delle persone ancora adesso in un certo senso perciò possiamo concludere che il sogno che l'arte si è alimentata molto del sogno nella sua storia direi proprio di sì bene grazie professor Stinati come al solito una lezione affascinante grazie allora professor Maira voleva dire qualcosa dove c'è va bene no volevo riferire ecco non funziona bene sì no no ma funzionava questo funziona meglio no volevo semplicemente per portare su un livello un po' più leggero riferire di un esperimento importante che può ispirare qualcuno di noi nell'ottocento un barone francese il barone d'Hervé stanco di avere sempre gli incubi durante la notte trova un sistema molto ingegnoso cioè chiede al suo maggiordomo al mattino di entrare piano piano nella sua stanza e nel momento in cui i sogni sono più profondi in cui si è più proponzi a sognare di versare delle gocce di profumo sul suo cuscino diverse a seconda che volesse sognare la campagna della sua infanzia o l'ultima avventura con l'ultima delle sue amanti e sembra che il sogno che il sistema funzionasse quindi potrebbe essere un modo per Allora a proposito di arte e sonno di arte e cervello di arte e sogni ci sarà questo esperimento Dreamover ne aveva già parlato Millie prima e la fondazione Athena Onlus ha pensato di organizzare insieme alla fondazione Maxi un'iniziativa dedicata al connubio tra cervello e arte in particolare l'influenza che la bellezza artistica ha a livello cerebrale durante la fase del sonno allora Giovanna Melandri avete aderito a questa iniziativa grazie tanto di ospitarci ma intanto buonasera a tutti siamo lietissimi di avervi ospiti qui al Maxi ma insomma in questo caso non spargiamo gocce di profumo sul cuscino dei coraggiosi e degli audaci che questa notte passeranno la notte al museo devo dire io devo ringraziare il professor Maira devo ringraziare la fondazione Athena perché l'idea è loro non è nostra noi siamo stati molto felici di accogliere questa idea insomma non so quanti saranno alla fine questa notte una ventina di coraggiosi e audaci sperimentatori dormiranno nel museo e noi naturalmente garantiremo tutto il comfort e la sicurezza per questa esperienza e dormiranno sotto delle fotografie cioè accanto a delle fotografie perché noi in questo momento tra le tante bellissime mostre che abbiamo in casa e che vi invito a venire a vedere naturalmente abbiamo da pochi giorni inaugurato una mostra per noi molto importante perché è una mostra che celebra in modo non retorico ci auguriamo i 70 anni della Repubblica Italiana e lo fa con le foto di grandissimi maestri sono una quarantina di maestri di fotografia contemporanea quasi tutti italiani ma anche qualche grande maestro internazionale e quindi i 20 coraggiosi questa notte dormiranno sotto queste foto la cosa interessante poi vedremo domani professore cosa succede perché avete parlato molto ovviamente di Freud di come adesso non mi voglio dilungare ma insomma non solo Freud ci aiuta capire l'arte del novecento perché Strinati è andato insomma molto indietro ma se parliamo dell'arte moderna l'arte contemporanea noi siamo attraversati quotidianamente da artisti che dialogano con la neuroscienza con i neuroscienziati un po' l'anno scorso più un po' più di un anno fa abbiamo ospitato per esempio una bellissima mostra di Jan Fabre e Jan Fabre ha lavorato con Rizzolati con il team italiano dei neuroscienziati che lavorano sui neuroni a specchio e insomma e comunque appoggiarsi ai sogni è un esercizio una pratica che gli artisti hanno fatto da sempre quindi questa notte noi proponiamo alcuni coraggiosi di appoggiarsi alle opere del nostro museo e vediamo un po' che cosa succede comunque grazie ad Atena perché l'idea è loro noi siamo solo ospiti grazie 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 tantissimo allora questa iniziativa si svolgerà alla presenza della professoressa Cristina Alberini neuroscienziata della New York University che già è stato coinvolta nell'esperimento new yorkese perché già è stato si è svolto questo esperimento a new york allora facciamoci raccontare come è andata e che risultati ci si può aspettare da questo esperimento si allora tanto per dare un contesto questa iniziativa infatti riproduce un po' questo esperimento cioè ripeteremo e amplieremo questo esperimento che è stato fatto a new york al ruby museum è un museo di arte buddista e l'esperimento è stato organizzato da psicanalisti e psicoterapeuti io sono stata invitata in realtà perché mi occupo di memoria e come abbiamo sentito appunto i fatti e le esperienze hanno tanti legami col sonno innanzitutto le memorie si consolidano e si formano quali a lungo termine attraverso il sonno e soprattutto le prime fasi proprio di consolidamento avvengono durante la notte dopo le esperienze per questo che questo esperimento viene fatto dormendo al museo allora tornando a new york a new york l'idea con gli psicanalisti che gli psicanalisti hanno avuto è di raccogliere le informazioni dei sogni che che i partecipanti hanno avuto durante questa notte al museo dopo aver diciamo essersi connessi o comunque aver contemplato il museo di tipo buddista è di un'arte molto contemplativa e simbolica quindi l'hanno scelto appunto per questo e hanno raccolto una serie di dati sul tipo di sogni e su come l'esperienza della notte al museo ha influenzato i sogni allora i risultati sono molto descrittivi quindi non non è che ci siano dati scientifici in questo senso sono molto descrittivi noi qui essendo avendo aggiunto la parte neuroscientifica come abbiamo sentito vogliamo aggiungere un altro un altro aspetto e questo è stato discusso con i colleghi con il professor Ferini Strambi e con il professor Benedetto Farina che sarà appunto raccoglierà una serie di dati anzi che ha già cominciato l'esperimento ha avuto l'idea di raccogliere una serie di dati che sono legati al sonno come abbiamo sentito il sonno è importante per formare le memorie il sonno è importante per tantissime funzioni vitali e cercare di capire come varia il sonno o l'attività legata a questa notte al museo sarà un'aggiunta che noi avremo in questo esperimento d'altra parte invece i sogni che sono anche legati alle esperienze non sono ancora conosciuti dal punto di vista dei meccanismi abbiamo sentito che ci sono molti dibattiti non si sa a che cosa servano i sogni non lo sappiamo ancora quindi raccoglieremo un sacco di dati sia dal punto di vista del sonno che dei sogni e vedremo da questo che cosa ne risulterà mi sembra interessantissimo un campo veramente infinito questo del sonno e dei sogni grazie professoressa Alberini allora io adesso do la parola a Milli per la la premiazione ufficiale di Atena Onlus prego Atena Onlus 2016 vai grazie Livia allora come dicevamo al principio questa è anche l'occasione per onorare il lavoro incessante e brillante di alcuni scienziati che si occupano proprio di neuroscienze e cominciamo subito con il primo dei premi ecco i premi li vedete lì e sono le comete del maestro Ceroli perché come sempre il maestro onorando della sua amicizia la fondazione Atena rappresenta con diciamo il simbolo della cometa questa questa luce brillantissima che la scienza riesce ad accendere nel cielo ed è un bellissimo simbolo perché noi speriamo davvero che la ricerca scientifica riesca a tenere acceso questo l'interesse del mondo su alcuni argomenti che sono quelli importanti perché il cervello è veramente il centro della nostra vita della nostra attività di esseri umani cominciamo col premio Roma alla carriera e per consegnare questo premio Roma chiedo al professor Mainetti di raggiungermi qui sul palco se li vogliamo dare anche un microfono per favore no aspetta ce l'ho qua ce l'ho qua ecco glielo do io professore eccolo qua come presidente del gruppo sorgente che è anche il main sponsor ed è uno dei compagni fidati del percorso di Atena il premio Roma adesso vi leggo il curriculum della persona a cui viene consegnato il premio Roma va a Gaetano Finocchiaro direttore del dipartimento di neurooncologia molecolare presso l'istituto neurologico Carlo Besta di Milano laureato in medicina e chirurgia presso l'università di Milano poi si è specializzato presso ha effettuato il post dottorato in genetica umana all'università di Yale e il suo principale campo di attività è la ricerca traslazionale in neurooncologia con attenzione ai campi più moderni della ricerca applicata alla clinica cioè all'immunologia immunoterapia oncologica alla genetica e genomica di gliomi e di altri tumori cerebrali allora sarebbe molto lungo indicare i premi i riconoscimenti che il professore ha ricevuto perché il premio alla carriera viene proprio si aggiunge ad una serie di successi che sono testimoniate anche dalle pubblicazioni scientifiche insomma veramente una carriera brillantissima la motivazione è questa la fondazione Atena è orgogliosa di assegnare al professor Gaetano Finocchiaro il premio Roma alla carriera per l'impegno continuo nello studio dei meccanismi che portano allo sviluppo dei tumori cerebrali e per lo straordinario contributo dato alla ricerca di terapie innovative per la cura dei tumori cerebrali ecco anche il professor Maira con noi vogliamo consegnare allora il premio dalle mani proprio del professor Mainetti eccolo qua vuole dire qualcosa al professor sì professore ma io sono emozionato non sono abituato a ricevere premi di questo tipo sono molto molto felice ringrazio se posso brevissimamente pensavo di ringraziare quattro persone le metto in ordine alfabetico per non fare per non fare il primo è il mio collega e amico Antonio Iavarone della Columbia University con cui negli ultimi anni sulla genomica che è membro del comitato scientifico di Atena giustamente con cui negli ultimi anni siamo riusciti a fare dei progressi veramente notevoli nella conoscenza di questo tumore terribile che è il glioblastoma e di come si modifica con la terapia la seconda in ordine alfabetico è il professor Maira che mi onora della sua amicizia e della sua stima e che è un chirurgo che ama la scienza e senza polemica questo non è non è necessariamente usuale la terza persona è mia moglie che Maria Grazia Bruzzone che mi ha sopportato soprattutto all'inizio della mia carriera quando ero totalmente infoiato per il laboratorio eccetera e non avevo ritmi normali di vita e la quarta persona è meno conosciuta perché è molto giovane è Serena Pellegata che è una straordinaria ricercatrice che adesso è negli Stati Uniti e che ha portato l'immunologia nel nostro laboratorio dove prima regnava solo la genetica grazie a tutti voi grazie ma io sono molto onorato di aver consegnato questo premio al professor Finocchiaro quello che vorrei dire è che al di là dei sogni così irrazionali che ognuno di noi ha c'è un sogno significa anche un'idea un'ideale io ho un sogno e il sogno è quello di sconfiggere il cancro questo è un sogno che ha tutta l'umanità e noi dobbiamo ringraziare uomini come il professor Finocchiaro che stanno portando avanti questa guerra contro il campo contro il cancro e lui ha vinto tante tante battaglie però vorrei dire che per fare questo occorrono anche dei fondi e quindi i fondi per la ricerca sono fondamentali sono importanti e quindi io invito tutte le istituzioni le aziende private e anche i privati a sostenere le ricerche come quelle del professor Finocchiaro con dei fondi perché portano avanti questa battaglia grazie e questo direi che da uomo come dire concreto direi che poi è anche il segno forse più importante il messaggio che noi dobbiamo lanciare da qui anche attraverso poi le donazioni 5 per 1000 perché la ricerca soffre noi poi ci lamentiamo del fatto che i cervelli vadano all'estero ma perché se non trovano fondi in Italia per poter continuare a ricercare devono andare lì dove trovano ossigeno e quindi purtroppo anche se il discorso sul denaro sembra sempre un discorso poco elegante invece è un discorso fondamentale cruciale e centrale quindi invece venendo al fatto che noi poi questa sera continuerà questa serata con il dream over ospiti proprio del grazie al presidente Melandri ospiti proprio qui del Maxi ma allora che ne pensa visto da cultore anche dell'arte appassionato collezionista di dormire con le opere d'arte io dormo con tre opere importanti perché io prima dormivo con mia moglie poi da quando russo sono stato cacciato quindi mi sono consolato dormo in una stanza da solo però avendo la fortuna di essere collezionista ho tre belle opere che sono il San Pietro di Guidoreni che è un quadro abbastanza noto è un San Pietro penitente che guarda la croce quindi ha gli occhi pieni di pianto perché si pente Guidoreni è stato bravissimo nel farlo e poi c'è una Madonna di Maratta Maratti era un pittore che faceva quadri nella fine del 600 viene chiamato Carletto delle Madonne perché a Roma sempre si fa perché dipingeva soprattutto le Madonne ed è un quadro molto complesso perché c'è la Madonna con un bambino che tiene una croce e una corona di spine e poi le tre Marie sembrerebbero però una di queste è nera quindi sono quadri direi che ispirano molto lo studio di notte a volte quando non dormo li guardo e quindi fanno molto pensare però dire che ispirano i sogni sogni penitenziali sicuramente sì si ispirano sì però ecco un'opera ispira i sogni soprattutto quando arriva e sta lì per un paio di giorni poi dopo diventa un po' un'abitudine però fa molto riflettere molto pensare sicuramente bene quindi insomma dato che ci sarà un impatto questa sera con delle opere vedremo domani mattina appunto il risultato vediamo che succede grazie grazie presidente tengo il microfono e lo do al professor Maira che deve rimanere con me perché invece questo è il momento della consegna invece del del premio Atena e anche della medaglia del presidente della repubblica che vuole onorare uno scienziato a cui prego di dedicare appunto un applauso speciale perché è uno scienziato francese ed è uno di quei personaggi che illuminano veramente il mondo della ricerca scientifica nel campo delle neuroscienze questo è il premio che va a Hugh Dufault che prego di raggiungerci qua vi leggo adesso il curriculum vitae di Hugh Dufault che è professore e direttore del dipartimento di neurochirurgia all'università di Montpellier in Francia che è diventato famoso in tutto il mondo per questa specializzazione particolarissima che è l'awake cognitive neurosurgery neurosurgery cioè la chirurgia su pazienti svegli e sottoposti a studi cognitivi che lui ha sviluppato in circa 20 anni e che applica tumori cerebrali a lenta crescita come i griomi di basso grado questo suo approccio e per tutti i suoi studi insomma hanno fatto del suo istituto a Montpellier una specie di sede di pellegrinaggio da parte di neurochirurghi di tutto il mondo che vanno da lui ad apprendere i fondamenti di questa nuova neurochirurgia cognitiva il suo lavoro l'ha portato ad avere riconoscimenti ovviamente in tutto il mondo pubblicazioni scientifiche copiosissime che fanno di lui un nome assoluto della neuroscienza infatti la motivazione per questo premio è la seguente la fondazione Atena è particolarmente orgogliosa di conferire al professor Hugh Dufault il premio Atena per il contributo rivoluzionario dato alla comprensione del funzionamento del nostro cervello e per aver tracciato una strada nuova per la chirurgia cerebrale grazie alla quale molte migliaia di malati in tutto il mondo sono stati operati di tumore cerebrale con la preservazione delle loro funzioni e con una più completa rimozione della patologia da cui erano affetti per favore un grandissimo applauso ed ecco che arriva il premio la cometa del professor Ceroli e la medaglia del presidente della repubblica repubblica italiana e questa è la cometa simbolo di Atena simbolo di Atena io presento il professor Dufault conosco Hugh da molto tempo ma direi che è un nome nella neurochirurgia oggi abbiamo avuto la fortuna di premiare due innovatori Gaetano che abbiamo appena premiato è stato il primo in Italia e tra i primi al mondo a parlare di immunoterapia a portare l'immunoterapia nei tumori cerebrali Hugh Dufault è stato il primo a capire che la conoscenza del cervello non poteva limitarci semplicemente alle aree cerebrali importanti ma bisognava capire cos'era che univa queste aree cioè com'era andare nella profondità della conoscenza del funzionamento del cervello se posso avere delle diapositive avevo preparato due immagini avanti avanti ecco questo qui sono le fibre che connettono i nostri neuroni avanti li possiamo studiare in differenti modi avanti ancora avanti e qui vedete come di fronte ad una lesione cerebrale la conoscenza delle fibre sia molto importante diciamo che il professor Dufault è stato la persona che in neurochirurgia ha studiato queste fibre ha studiato come funziona il cervello e soprattutto ha insegnato a tutti noi come si deve operare un cervello senza danneggiare queste fibre il cui danno avrebbe delle conseguenze molto importanti forse possiamo chiedere a lui di dire con le sue parole qual è il significato del lavoro che ha fatto first of all I would like to thank you very much and I'm sorry I should speak in English but what I learned since 20 years approximately by having this chance to pray awake patients more or less every week into my operating theater is that there is there is no one area corresponding to one function but in fact the brain is much more complex is underbinded by allora tutta la sua esperienza ha dimostrato che non c'è un'area che corrisponde ad una funzione ma il cervello è molto più complesso di questo e quindi organizzato in varie aree che sono connesse tra di loro e che riguardano le varie funzioni che sono anche non solo quelle conoscitive cognitive ma anche quelle emotive the brain is magic so it means that we can learn by just observing the brain in a wake patient but we can also use this potential what we call the neuroplasticity in order to remove more tumor earlier and to give the opportunity for the patient to live longer than 20 years now for my first patients but with a perfect quality of life and this is my dream to give the possibility to this patient not only to survive but also to dream their life quindi il cervello è magico e l'osservazione delle capacità del cervello ci consente attraverso lo studio di quello che il professore ha fatto di cercare di dare ai pazienti non solo la speranza di sopravvivere ma la speranza di poter andare avanti sviluppando anche la propria capacità anche i propri sogni I would like to thank very much my patients because more than 80% of them are still alive and it's a long history with most of them and they are giving me now the energy in order to continue and the next dream is to try to use this knowledge and the connectivity to restore brain function so I hope that this medal is not for what I did but for what I will do this medal this medal non è per il passato per quello che ha fatto ma per quello che farà we really hope so we really hope so we you fight for us so we hope so grazie veramente un grandissimo applauso al professore perché la sua battaglia è la nostra battaglia ovviamente e adesso allora chiedo invece per il premio Atena Donna che si consegna per la seconda volta chiedo proprio a Carla Vittoria e a Gianni Letta di raggiungermi qui perché è il momento adesso di premiare una donna invece il premio Atena Donna allarga la sua competenza al di là delle materie diciamo scientifiche e mediche semplicemente al mondo femminile a chi nel mondo femminile riesce a lasciare un segno a compiere qualcosa che sia veramente un segno come fa la persona che adesso noi andremo a premiare che l'ambasciatrice Elisabetta Belloni segretario generale del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'ambasciatore laureato in scienze politiche e poi è entrato nella nella carriera diplomatica e muovendo i primi passi nelle organizzazioni internazionali a Vienna in Repubblica Slovacca si è poi è poi stata nominata ambasciatore di grado nel 2014 e nel 2015 viene scelta dal ministro degli esteri Gentiloni come capo di gabinetto nel maggio del 2016 assume le funzioni di segretario generale della Farnesina prima donna a ricoprire tale in carico della carriera diplomatica la fondazione Atena Onlus a nome del comitato Atena Donna è particolarmente orgogliosa di conferire il premio Atena Donna all'ambasciatore Elisabetta Belloni per la sua straordinaria carriera diplomatica e per aver dimostrato come le donne grazie alle loro doti uniche e straordinarie possono far fronte alle sfide più ardue e ricoprire nella nostra società i ruoli più prestigiosi bravo Elisabetta ecco allora se l'ambasciatore mi permette se l'ambasciatore Elisabetta mi permette prima di dire due parole su di lei vorrei a nome di tutti ringraziare Giulio Maira non solo per quello che è e per quello che fa ma anche per quello che ci regala è vero che lui ha scritto un bellissimo libro in cui ci ha regalato le stelle e dopo quelle stelle ne sa qualcosa Mili che ci balla con le stelle dopo quel libro nulla può più meravigliare ma io stasera credo che lui abbia avuto il più bel riconoscimento dal professor Finocchiaro perché il professor Finocchiaro dicendo anche che non è una cosa abituale ha detto che Giulio Maira è un grande chirurgo che ama la scienza e infatti unisce benissimo le sue qualità di chirurgo su un organo così delicato e difficile l'abbiamo sentito come il cervello con la passione per la ricerca e la scienza che ha sempre coltivato e che gli hanno fatto anche costituire questa Onlus Atena che promuove proprio la ricerca scientifica nel campo che avete sentito e ci regala ogni anno anche a noi profani che sappiamo poco di cervello e capiamo poco delle funzioni di un organo così delicato una bellissima lezione ma lo fa in maniera interessante curiosa e divertente un anno ci ha parlato del cervello e del cuore un anno del cervello e dell'arte un anno del cervello delle donne quest'anno del cervello dopo mezzanotte sogni e sogni e abbiamo sentito delle meraviglie sia sul sonno sia sui sogni e quindi professore grazie grazie anche per questa iniziativa meriti quello che lo stesso professor Dufault ha detto della sua medaglia ha detto che quel riconoscimento lo prendeva non per ciò che ha fatto ma per ciò che farà noi ci auguriamo di poter venire qui per tanti anni ancora alle manifestazioni di Atena per sentire i tuoi nuovi successi le tue nuove conquiste che poi sono non tue come hai detto in quel bellissimo libro ma per l'umanità per i tuoi pazienti per noi poveri cittadini adesso mi consentirete di dire ecco no un piccolo errore lo ha fatto però il professor Mayra che è un perfetto regista assieme a Carla di queste manifestazioni per un premio così importante a una personalità così importante si sarebbe voluto un bel altro personaggio ma siccome il professor Mayra è anche una persona molto generosa e Carla che gli è vicino altrettanto sanno che io sono un vecchio ammiratore forse preferirei dire antico ma anche vecchio ammiratore dell'ambasciatore Belloni e perciò ha riservato a me il privilegio e il piacere di consegnare il premio anche se lei avrebbe meritato ben altri personaggi ma avete sentito la motivazione che Millie Carlucci ha letto questo premio si intitola ad Atena tutti sappiamo che Atena era la dea della salute la dea della scienza ma siccome il professor Pria ci ha introdotto nel mondo mitologico dell'antica Grecia parlandoci di tante meraviglie lui avrebbe parlato ancora di più per la verità se non fosse stato con la grazia di Nazariti fermato e io vorrei ricordare che Atena è stata una delle divinità più famose e celebrate dell'antichità greca e non è stata solo venerata come la dea della salute ma come la dea delle arti femminili che poi però anche delle imprese maschili la dea della pace con uno spirito guerriero la dea della città e della casa la protettrice del sovrano a lei fu affidata vero professor Pria la custodia del palladio che è il simbolo della difesa la garanzia della salvezza tant'è vero che anche noi moderni figurativamente definiamo palladio il presidio della difesa della salvezza di una collettività e nell'epoca moderna così come nel resto nell'epoca antica a chi è affidata soprattutto la sicurezza la difesa la garanzia della salvezza di una comunità la diplomazia quindi oggi Atena si chiamerebbe Elisabetta perché Elisabetta è arrivata come avete sentito al vertice della carriera diplomatica l'ha compiuta tutta in maniera straordinaria e prodigiosa e oggi è il più alto diplomatico della farnesina perché il vertice di quella carriera è il segretario generale della farnesina ha detto Millì giustamente prima donna ad essere segretario generale a ricoprire quel ruolo un primato ma è un primato che Elisabetta si porta presso tanti anni è giovane giovanissima però di primati di questo genere ne ha avuti parecchi perché è stata la prima donna assieme ad un'altra ragazza ad essere ammessa al collegio massimo dei gesuiti fino allora esclusivamente maschile quindi prima donna a scuola poi quando è arrivata la farnesina e ha cominciato a fare carriera non è stata la prima donna a entrare in diplomazia ma una delle prime e la più brava ma poi è stata la prima donna a dirigere il servizio più delicato della farnesina l'unità di crisi si chiama così e poi la prima donna ad essere direttore generale della cooperazione e poi la prima donna ad essere capo di gabinetto e adesso la prima donna ad avere l'incarico più prestigioso e più alto di segretario generale quindi una serie di primati ma perché io sono un ammiratore non soltanto perché è una bellissima donna e tutti lo siamo ma perché io l'ho vista lavorare ho avuto il privilegio di imparare tanto da lei e di vederla all'opera perché lei è stata nominata dall'allora ministro degli esseri direttore dell'unità di crisi a novembre del 2004 e l'unità di crisi è quella cabina di regia dalla quale si governano le crisi che possono essere di origine bellica o terroristica o anche naturale lei nominata a novembre un mese dopo ha gestito stupendo il mondo e garantendo all'Italia la riconoscenza e la gratitudine di tutto il mondo quella tragedia che fu lo tsunami nel sud-est asiatico lei è stata la grande regista di quella operazione che ha fatto onore all'Italia e che ha stupito tutti gli altri paesi ricorderete che lì c'erano turisti di tutto il mondo che facevano fatica a tornare a casa lei l'Italia li ha riportati nelle rispettive patrie tutti quanti ma questa è stata soltanto una la prima delle operazioni quelli erano anni difficili c'erano le guerre in giro per il mondo c'era l'Iraq c'era l'Afghanistan e sapeste quante notti abbiamo passato trepidando insieme e sapeste professor Maira lei che ha fatto questo bellissimo esperimento quante notti Elisabetta Belloni ha passato alla Farnesina non davanti alle opere d'arte ma alle prese con i problemi e l'ho fatto sempre con una dedizione straordinaria con una competenza unica con una determinazione altrettanto unica ma anche con una grandissima umanità perché dietro quegli occhi chiari e belli dietro questo aspetto mite e sorridente dietro questo sorriso così gentile dietro questo comportamento così elegante c'è una donna di ferro con un carattere d'acciaio e con una volontà straordinaria con una capacità straordinaria e io l'ho vista operare con questa determinazione con questa capacità ma anche con questa grandissima disponibilità sensibilità che forse solo una donna può avere e l'ho vista trattare con i parenti dei sequestrati o dei rapiti e l'ho sentita trattare con i parenti delle vittime e tutti ne sono rimasti conquistati ecco perché non le facciamo passare un'altra notte qui non la trasciniamo nell'esperimento della professoressa Alberini che d'altro canto è un premio Atene Atena anche lei di qualche anno fa ma se proprio deve partecipare all'esperimento io penso che non dovrebbe stare dalla parte dei mainetti che dormono qui tra le opere ma dovremmo metterla tra le opere alle quali guardare prima di dormire grazie Elisabetta eccezionale lasciamo riposare l'ambasciatore che qualcuno ha cercato di boicottarla proprio è stato un attacco alle gambe l'eloquenza del dottor Letta è nota e stasera credo ne abbia dato un'ulteriore prova fortunatamente il mio cervello un pochino ancora funziona e quindi sono in grado di ridimensionare tutto quello che ha detto nei miei confronti e per il quale veramente lo ringrazio per me è un onore avere qui il dottor Letta perché come ricordava la comunanza di certe esperienze e di certi momenti difficili che richiedono decisioni che si prendono lealmente e anche credo con grande buona fede in realtà implicano sempre una certa incertezza di come le cose poi possono andare a finire e questo quindi credo che sia un sentimento che porteremo insieme per tutto l'arco della nostra vita io sono naturalmente molto grata ad Atena che mi ha voluto dare questo riconoscimento però confesso di avere insieme a questa gratitudine anche un sentimento che definirei quasi di disagio se non addirittura di imbarazzo perché l'essere parte di un gruppo di scienziati per chi come me ha fatto invece una scelta che almeno così in generale non si considera scientifica mi fa sentire in un certo qual modo come un estraneo però mentre ascoltavo l'interessantissimo dibattito mi sono ricordata quando diciottenne lanciai una monetina e feci la scelta determinante poi per la mia vita di prendere un indirizzo più umanistico e più di relazioni perché l'altra scelta era ingegneria e quindi affrontare materie decisamente scientifiche e in fondo c'è molto in comune fra questi due settori della nostra vita che è proprio l'uso del cervello cioè sapere che qualsiasi professione qualsiasi attività implica analisi studio utilizzo della mente e quindi questo mi fa sentire un po' meno a disagio in questo gruppo autorevole di scienziati che oggi hanno ricevuto questo riconoscimento quindi grazie grazie infinita grazie a lei grazie al dottor Letta e allora come ultimo atto di questa serata c'è infine un premio che è anche una borsa di studio ad un ricercatore e in questo caso parliamo di una ricercatrice e ancora il professor Maira ecco con il microfono perché è una ricercatrice presso l'Humanitas Research Hospital di Rozzano a Milano ed è Lorena Passoni Lorena Passoni eccola qua vi leggo la motivazione la fondazione Atena è particolarmente lieta di assegnare all'autoressa Lorena Passoni una borsa di studio come premio per la sua scelta di voler dedicare volersi dedicare alla ricerca scientifica e come stimolo a portare avanti le sue interessanti e promettenti ricerche la professoressa dal 2011 è stata chiamata dalla professoressa Michela Matteoli l'attuale direttore dell'istituto neurosciente del CNR responsabile del programma di neuroscienze in Humanitas per costituire e dirigere una nuova linea di ricerca dedicata allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per i tumori cerebrali basate sull'uso delle nanotecnologie i risultati fino ad esso pubblicati su varie riviste internazionali costituiscono un nuovo e promettente approccio terapeutico al glioblastioma il tumore più comune più maniglio fra le neoplasie cerebrali ecco questo rientra anche questo premio nel questo interesse che è la fondazione per i tumori e oggi praticamente abbiamo premiato scienziati che si occupano i tumori la ricerca che fate voi io la vivo tutti i giorni è una ricerca magari brevemente ce la riassume in poche parole però talmente importante che mi è sembrato corretto giusto interessante che attende a contribuire se in qualche modo nei limiti che possiamo però con una con una borsa di studio per portare avanti quello che voi fate che se ci vuole raccontare sì certo grazie beh sono emozionata anche io anche perché è la prima volta che vengo premiata per cui grazie mille beh quello che facciamo noi allora se io vi dico che i chemioterapici fanno curano ma comunque hanno effetti collaterali e fanno male non vi dico una cosa nuova però quello che noi cerchiamo di fare e che forse voi non sapete è che noi questi chemioterapici li possiamo incapsulare in nanomateriali speciali e soprattutto che hanno una dimensione piccolissima 100 nanometri a volte non li vediamo neanche sotto un microscopio normale dobbiamo usare dei super microscopi elettronici così incapsulati questi farmaci li possiamo anche armare in modo in modo che questi arrivino in modo specifico alle cellule tumorali ma non alle cellule normali questo fa sì o dovrebbe far sì che oltre a essere più efficaci sono anche meno tossici per cui possiamo garantire sia l'efficacia ma anche una qualità di vita superiore per cui evitando tutti effetti tossici è un lavoro molto multidisciplinare perché c'è bisogno della competenza sì del biologo come lo sono io ma sono importanti anche le competenze quindi la collaborazione con ad esempio chimici ingegnere dei materiali perché dobbiamo studiare qual è il materiale il biomateriale più giusto e più efficace da utilizzare io in particolare lavoro in un gruppo di 20 persone con altre 20 persone ricordatevi che noi ricercatori non siamo isole non lavoriamo mai da sole voi premiate me e io con questo vi ringrazio tantissimo ma con me lavorano tante altre persone e in particolare ne vorrei citare quattro che sono i miei collaboratori più stretti e vabbè Michela che è mio capo ma anche mia amica mia collaboratrice e poi viene Matteo Marco e Eleonora che sono vabbè Matteo prima era con me uno studente di dottorato adesso si è dottorato però continua con me e poi abbiamo le nuove entri che sono Marco che prenderà inizierà il suo dottorato quasi subito a settembre e Eleonora che è appena giunta e un junior scientist grazie mille ecco dietro dietro questi nomi c'è molto lavoro e spesso ci sono pochi soldi perché questi ragazzi entrano e magari non sono neanche pagati per cui lavorano si dedicano a qualcosa che sarà utile per tutti noi e quindi è importante in qualche modo fare qualcosa intanto le diamo allora è un premio ci sarà anche un assegno di 5.000 euro e pochissimo però speriamo che minimamente vi aiuti a portare avanti la ricerca grazie tante complimenti e allora siamo veramente arrivati alla conclusione è bello o come ogni anno vedere qual è l'entusiasmo che questi scienziati hanno nei confronti del loro lavoro che diventa poi preziosissimo per noi che popolo inerme siamo purtroppo in attesa di risposte su tanti mali che ci affliggono speriamo che la ricerca grazie alle tante iniziative di persone di buona volontà di scienziati ma anche sponsor che sono dietro gli scienziati speriamo che vada avanti vorrei nel frattempo ringraziare il professor Maira Carla Maira tutto il team che ha lavorato alla creazione di questo evento Livia Azzariti l'ufficio stampa equa di Camilla Morabito gli sponsor naturalmente sorgente che il main sponsor è Letta e Omicron perché tutto questo è sempre è frutto sempre di un grande lavoro di squadra ecco io ringrazio Millie naturalmente perché sempre con noi è sempre una presenza bellissima è entusiasmante e trascinante gli ospiti che sono venuti da fuori tutti voi che siete qui e soprattutto le ragazze di Atena Chiara Chiara è Chiara non è difficile ricordare i nomi siete state bravissime complimenti veramente e grazie ancora per l'ospitalità per l'ospitalità ricevuta in questo posto ci sarà l'esperimento dream over e ne sentirete parlare domani quindi aspettate i risultati e lunga vita alla ricerca arrivederci a un altro anno grazie 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 grazie